Dentro aria fresca non poteva mancare a questo punto un momento più importante e allora per creare questo momento importante con due attori veri abbiamo pensato di rivolgerci ad una importante scuola teatrale, ad un'accademia e allora direttamente dall'Accademia di Arte Drammatica Bene Carmelo di Roma i fratelli Atto! Buonasera a questi due grandi attori, sono due attori i fratelli Atto Dicevo due grandi attori, due attori che adesso impareremo a conoscere, farò alcune domande loro ma soprattutto la cosa importante di questa... Dicevo due attori che hanno un particolare, questa scuola ha una caratteristica... Dicevo una scuola particolare perché questi attori in questa scuola non si impara a recitare nel classico modo con quell'enfasi un po' gasmaniana, quella incisività, vero? Bravo ragazzo, bravo ragazzo, bravo ragazzo Avete detto che voi in altro modo non è... E ho mai chiesto di farmi domande? No, mai! Mai, 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 mai Allora, intanto conosciamoci i fratelli Atto, ho detto, lei è? Io mi chiamo Rone Atto E lei? Renato Atto Attore Nato e Attorone Grazie, grazie, grazie Siete... Dirottelo, dirottelo, dirottelo... Dirimmo glielo, sa? Sì, ma ditemelo Abbiamo anche un fratello Abbiamo un fratello, abbiamo anche un fratello E come si chiama? Io sono molto più calmo. Rino, Rino. Fratello Rino. Ragazzino. A Torino. A Torino. Non può lavorare con noi, è vero? Perché noi siamo dei ragazzi importanti. Non lavora con voi? Non può lavorare con voi. Come mai non può lavorare con voi? Perché è a Torino in questo momento. E che fa? Non sa che lavoro fa. No, che lavoro fa? Il fattorino. È facile, è facile. Grazie a questa scuola. Parliamo di questa scuola. L'avete fatta voi questa scuola? L'abbiamo fatta noi. Con la cazzuola, il cemento, il matrimonio. La cazzeruola. La calcina. La petoniera, è vero? E girava, e girava. E ha vissuto. Bravo. Bravo. Non ha fatto niente di dire soltanto. Non ha fatto niente di dire soltanto. Non ha fatto niente di dire soltanto. Ma si merita cosa? Non ha fatto niente. Gli abbiamo mai chiesto niente a lei? Mai, mai, mai. Allora, per favore, faccia una cosa. Ecco, io voglio fare una domanda. E non vada oltre. Io voglio fare una domanda. Maio, quanti allunni avete? Diroglielo, uno. Uno solo? Ne abbiamo uno. Pochi ma buoni. Va bene. Pochi ma buoni. Bravo. Come si chiama? No, no. Claudio Flamia, ma è un cane da tolle. Va bene, va bene. Allora, veniamo a noi. Voi siete qui per decantarci una posia in una maniera diversa, immagino. Naturalmente noi è con Urri. Lei in un modo, lei in un altro. Perché lui può anche ridere, sa? Va bene, si scappa da ridere. Sto risando, stai guardando. Guadagni il centro. No, io guadagno quanto mi pare. Lei è della finanza? No, ma che finanza? Dico, guadagni il centro qui. Ma lei non ha fatto niente. Ma ma vaga qua. Non ha fatto niente. Può andare per favore? Ma io lo stai andando. Può andare per favore? Allora, sentiamo questa poesia. Le ho mai chiesto di stare vicino a me io? No, mai! Sentiamo che ti... Parolo vedere, eh sì. Come si recita così, senza vero esagerare, come fanno gli attori. Adesso declameràvi una poesia, prego. Grazie. Il titolo? Niente. Allora, lei per favore. Sì, ma voglio sapere. Se conduco io, chiederò il titolo, no? Le ho mai chiesto di condurre noi? No, mai! Mai, mai chiesto. Non voglio esagerare, come fanno. No, 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 mi raccomando, non esageri. Niente. Lei ti ha guardato, e tu? 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 Tu sei preoccupato, tu? Tu niente. Lei allora... L'espressione di paura. Lei allora si è spogliata dinanzi a te. Tu? Tu? Niente. Lei allora ti ha leccato anche un orecchio nuda come eri tu? Tu? Niente. Ma non è che niente è niente. Eh, grazie. Grazie. Grazie a me. Guardi, che l'ha decantata lui, eh. L'ha decantata lui. Adesso sentiamo, sentiamo adesso, un modo completamente diverso di recitare del signor Renato Atto. Abbiamo chiesto qualcosa a noi? No. A lui? Mai! Allora inizierò. Ma decanti in un altro modo. Perché noi, lei sa, signore, non mi ricordo neanche il nome, comunque... Allora lei stia calmo. No, stia molto calmo lei. Lei non mi ha chiesto di agitarsi? No, vai! Allora, io volevo, volevo... A memoria... Vai! Allora, siccome noi impariamo sempre a memoria, noi grandi attori di teatro, è vero? Io questa sera leggerò. Come leggerò? Il titolo della poesia è... Bella. Silenzio perché l'atmosfera, la tua ombra è apparsa oscurando tutto perché tu, 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 tu sei bella. Il tuo fascino è grande come grande il tuo corpo perché tu, tu, tu sei bella. Il tuo viso splende come la luna piena, è vero, l'ho aggiunto io, perché tu, 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 tu sei bella. I tuoi fianchi grandissimi accarezzano i tuoi segni oceanici, è vero, oceanici. E le tue cosce infinite sono zeppe di cellulite perché tu, tu, tu sei bella, bella, ma bella grassa sei, è vero, oceanici. Grazie, il fratello Iattolo. Dirò glielo fratello. Bravo e... Complimenti. Se li merita, eh. Complimenti. Se li merita. Saluti anche il suo fratello, eh, miracolato. Ah, voli dà. Renato, 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 Renato. Carissimo... È un tripulbio. Carissimo Giuseppe, eh, Giuseppe, senta Giuseppe. E allora, vorremmo dedicare questa nostra prima poesia detta al pubblico a nostro padre, scomparso. È vero? Famoso primo, Atto primo. Grazie ai fratelli Atto. Mamma mia. Grazie, grazie. Arriva a perdere. Arriva a perdere. Grazie.